Pixel 6 e 6 Pro sono appena stati annunciati, più o meno. Non si è trattato di un lancio vero e proprio, non c'è stata nessuna presentazione, ma più che altro era una sorta di conferma del design e dei rumor che già conoscevamo da qualche mese fa, li abbiamo anche parlato in un video apposito. Nessuna presentazione, ma una semplice pagina sul Google Store, un paio di tweet e due video su YouTube. Da queste fonti abbiamo estrapolato un po' di informazioni ufficiali che adesso andiamo a vedere. Partiamo col dire che ci saranno due smartphone, il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro. Uno dalle dimensioni medie, non si tratta di uno smartphone compattissimo e poi uno anche un po' più grande, naturalmente stiamo parlando del modello Pro. Il design, come vedete, è esattamente quello di cui avevamo già parlato e avevamo potuto analizzare qualche mese fa con il leak di John Prosser, che questa volta non ha sbagliato praticamente nulla. Quindi, il retro è diviso da due parti colorate con in mezzo una barra della fotocamera. Un'estetica che sicuramente divide, ma è un qualcosa di almeno diverso e anche un po' originale. Chi ha tenuto questo smartphone in mano ci dice poi che questi siano molto più belli visti dal vivo, tenuti proprio in mano rispetto ai render. E tendenzialmente ci crederei anche perché i render solitamente non riescono a esprimere al massimo le caratteristiche di uno smartphone o di qualsiasi altro gadget tecnologico. La fotocamera ricorda un po' alla lontana l'estetica del vecchio Nexus 6P, l'ultimo Nexus che in molti ancora ricordano e rimpiangono come uno dei migliori smartphone prodotti da Google insieme al Nexus 5. Sicuramente questo modulo da fotocamera sarà però comodo per evitare che lo smartphone si muova troppo quando viene posato sul tavolo. Ci sono poi anche delle differenze tra le fotocamere del Pixel 6 e del 6 Pro che condividono la stessa fotocamera principale e anche la granangolare, ma sul 6 Pro, dove abbiamo più spazio, è stata inserita anche una fotocamera a tele con zoom ottico 4x. Frontalmente invece hanno entrambi una sola fotocamera all'interno di un piccolo forellino centrale posto sul display. Quest'anno però la vera novità saranno i sensori che finalmente sono stati aggiornati ormai dal Pixel 2 che nei telefoni Google si è sempre usato lo stesso sensore che per quanto fosse buono ormai sentiva un po' il peso degli anni. Quindi finalmente sul Pixel 6 ci saranno nuovi sensori che sicuramente andranno a migliorare ulteriormente la qualità degli scatti ma anche dei video. Il Pixel 6 e il 6 Pro sono però due smartphone molto importanti per Google, non solo per questo nuovo design o per queste fotocamere aggiornate, ma perché si torna a parlare di smartphone top di gamma. Il Pixel 5 era un telefono dei compromessi, ma il 6 e il 6 Pro sono dei veri top di gamma con chip, non Snapdragon, ma con un nuovissimo stock realizzato in casa da Google chiamato appunto Google Tensor. Questo sarà un top di gamma e ha una grandissima importanza per Google perché si va a separare da Qualcomm e dai suoi Snapdragon che per quanto fossero e siano ancora oggi degli ottimi stock non sono però pensati per essere utilizzati su uno specifico smartphone, ma sono pensati invece per essere implementati su tantissimi e diversi dispositivi da smartphone Asus, Oppo, OnePlus e via così. Possiamo fare un piccolo parallelismo con il mondo di Apple che con i suoi portatili dove fino a qualche mese fa usava soltanto processori Intel e poi quando è passata a quelli Apple Silicon M1 ha potuto realizzare dei stock pensati appositamente per le sue macchine, riuscendo quindi ad avere dei prodotti estremamente ottimizzati, con delle prestazioni molto elevate e soprattutto con dei consumi bassissimi. Molto probabilmente vedremo più o meno la stessa cosa anche in questo nuovo Pixel 6 con il Google Tensor. Quando però andremo ad analizzare questi nuovi prodotti dobbiamo dimenticarci di tutto il discorso delle prestazioni che sullo smartphone stanno diventando un qualcosa di praticamente quasi irrelevante. I telefoni hanno ormai raggiunto una potenza tale, talmente elevata, che di anno in anno praticamente non si riescono quasi più a percepire i diversi miglioramenti concreti nell'utilizzo di tutti i giorni o anche nelle velocità di apertura dell'applicazione nell'utilizzo quotidiano. L'attenzione secondo me ora va concentrata su questi nuovi chip perché consentiranno di fare delle operazioni fuori dal comune. Il SOC Google Tensor infatti integra una nuova componente molto prestante sul lato dell'intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire però questo? È un po' complicato e capisco che possa far storcere il naso a qualcuno perché molto spesso questa nomenclatura viene utilizzata nei gadget più consumer, quelli che utilizziamo quotidianamente, come semplicemente un termine di marketing per attirare gli utenti. Ma nel Pixel 6 in realtà avrà alcuni risvolti anche in un utilizzo più comune. In primo luogo verrà sfruttato intensamente nei video. Come sappiamo da anni i Pixel sono in grado di fare delle ottime foto tramite il famosissimo algoritmo della Gcam capace di realizzare degli ottimi scatti in praticamente qualsiasi condizione. Tutti questi miglioramenti si potranno sfruttare anche nei video, quindi mi immagino una miglior esposizione di tutte le parti del video senza bruciare le alte luci, tenere tutto correttamente esposto, insomma dei video di qualità maggiore. Un altro scenario in cui Google Tensor interverrà sarà quello delle foto sfocate e a proposito di questo ci dà qualche indizio The Verge. La più significativa è stata quella che mostrava un bambino intento a correre ma che muovendosi così rapidamente non ha consentito allo smartphone di catturare ben a fuoco tutto il suo viso. In questo scenario però è intervenuta la fotocamera grandangolare che lavorando sempre in background anche quando scattiamo banalmente con la fotocamera il sensore principale ha il compito però questa grandangolare di catturare appunto tutti i dettagli della foto e intervenire per migliorare la nitidezza e i dettagli di tutte quelle parti sfocate proprio come in questo caso nel volto del bambino. Ancora si potrà utilizzare il Google Tensor con tutta questa potenza a disposizione per trascrivere ancora più rapidamente l'audio recepito dal microfono dello smartphone o presente in un video ma farlo senza connessione a internet e soprattutto con la possibilità di tradurre in altre lingue. Insomma degli utilizzi che saranno molto comodi nella vita reale e che sono stati permessi proprio da questo Google Tensor. Sul Pixel 6 e sul Pixel 6 Pro sappiamo poche altre cose. Sul display che sarà un 6.4 pollici sul base e un 6.7 pollici sul 6 Pro. Immagino siano dei pannelli OLED ma abbiamo delle conferme sulla frequenza di aggiornamento che è di 90 Hz sul base e di 120 sul 6 Pro. Direi infine di chiudere con delle riflessioni sui prezzi e sull'arrivo effettivo sul mercato. Dovrebbe realmente arrivare in autunno e il prezzo immagino sia alto. Stiamo tornando a parlare di top di gamma con tutte le specifiche appunto da un flagship, da un top e soprattutto ci sono state delle dichiarazioni interne a Google che affermavano che l'azienda avesse appunto l'intenzione di investire molto in pubblicità e quindi anche di riuscire a convertire il più possibile con tante vendite e con prodotti con un prezzo diciamo elevato. Ho però paura che questo prodotto non arrivi in Italia perché la pagina del Pixel 6 attualmente è presente soltanto in otto mercati, in otto store, quella americana, francese, Inghilterra e qualche altro ma in Italia non c'è nulla. Un po' di speranza me la dà il fatto che ci sia una piccola voce nel menu ma questo posizionamento delle varie pagine dei prodotti nel Google Store è stato un qualcosa di ben progettato e non è stato lasciato nulla al caso. Di fatti ci sono delle differenze tra i diversi paesi, in quello americano ci sono tutti i colori mentre in quello francese, in quello e nel Google Store francese sono presenti soltanto alcuni colori selezionati. Insomma vedremo in autunno quando il tutto verrà rilasciato completamente ma io ci spero tantissimo. Un ultimo piccolo fatto interessante è che il SOC Google Tensor dovrebbe essere prodotto da Samsung. Ci sono dei rumor ma fa parte di una nuova strategia che l'azienda coreana, che Samsung sta portando avanti ed è anche un segno di una ancora più stretta collaborazione appunto tra Samsung e tra Google che in questi ultimi anni si stanno avvicinando davvero tantissimo. Comunque questo era tutto, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dei nuovi Pixel 6 e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!